lunedì sera ore 21 noi siamo qui con il nostro fbu club per accogliere chi è interessato che ha piacere di parlare di approfondire dei temi del lavoro in particolare del lavoro nelle imprese di famiglia e questa sera abbiamo con noi come ospite vincenzo moretti buonasera a voi e grazie grazie davvero per l'invito sono contento e sono contento ancora di più io perché vincenzo per chi non lo conosce è una persona da scoprire io l'ho scoperto casualmente seduto alla mia sinistra a una cena di nobilità eravamo lì per una serata organizzata dagli amici di fior di risorse da osvaldo danzi e tutto il loro gruppo per cui era una serata in cui casualmente mi sono trovato questo signore alla mia sinistra ho cominciato a chiacchierare due anni fa con lui più o meno due anni in questo periodo con lui e ho scoperto un mondo ho scoperto un mondo di una persona appassionata del lavoro da sociologo da ricercatore da studioso da persona che attorno a questo ha una presenza ha una sua rubrica anche sul sole 24 ore ma ha sviluppato veramente un progetto che ha chiamato il lavoro ben fatto che mi sembra particolarmente in linea col mondo dei nostri imprenditori degli imprenditori delle imprese di famiglia vincenzo ci racconti un pochettino prima di entrare nel lavoro nel tuo concetto di lavoro ben fatto a presentarti a raccontarci un po di te da dove nasci che tipo di percorso hai fatto per arrivare qui sì sì io insomma ti ringrazio davvero di cuore ma lo so che sembrano quelle cose formali ma insomma io ci tengo per anche per un vecchio modo diciamo una vecchia educazione che mi permette di parlare di mio padre che è il primo che ha portato il lavoro ben fatto in casa perché lui più di 50 anni fa io avevo 12 13 anni mi si è presentato una sera essendo io il primo figlio era la persona con la quale lui parlava diciamo di queste cose e lui quella sera diciamo mi ha spiegato la differenza tra il lavoro preso di faccia quello fatto con amore passione rigore impegno e quello fatto a meglio a meglio per passare la giornata io ero naturalmente un ragazzino di 12 13 anni di più di 50 anni fa quindi lo capivo e non lo capivo non erano tempi in cui almeno io non potevo dire a mio padre ti capisco non ti capisco per cui stavo lì lo ascoltavo e questa cosa diciamo così mi affascinava questo per dire che cosa che vengo da una famiglia molto semplice mio padre era un operaio prima un muratore poi un operaio elettrico mamma era prima una bracciante poi ha fatto la casalinga come tante donne del sud diciamo una volta una volta sposata è una famiglia molto semplice una famiglia però dove il lavoro in un quartiere anche abbastanza complicato io sono di secondigliano e quindi diciamo il lavoro era in qualche modo poi queste cose qua sai tu studi insomma ti pigli una laurea diventi un sociologo scrivete libri le studi ci ragioni però quando tu le cose oltre a studiarle le hai vissute certi fatti no quando tu per esempio leggi il lavoro identità cioè sai quella è una frase il lavoro identità quante volte in quanti discorsi quando il lavoro identità però che succedeva succedeva che io nel mio quartiere a secondigliano ero vincenzo il figlio di pasquale operaio dell'enel tonino parola il mio migliore amico a quei tempi il mio amico del cuore diciamo così lui era tonino il figlio di raffaele l'operaio dell'ital sider salvatore era il figlio dell'operaio della mac fonda questa roba qui che naturalmente ci rendiva in qualche modo anche diversi da altri che magari avevano le motociclette che noi non avevamo avevano i soldi che noi non avevamo e che magari li guadagnavano cioè che sicuramente li guadagnavano in dei modi come dire illegali ok però noi in qualche modo l'identità quando poi tu studi e leggi dici il lavoro dall'identità tu ti ricordi quella cosa di chi eri tu vincenzo figlio di pasquale operai dell'enel eccetera eccetera e tu lo capisci cioè tu lo senti dentro che l'identità ha a che fare con il lavoro cioè ci sta una differenza di non poco conto insomma io ho fatto questo tutta la vita ho studiato ho scritto ho pensato qualche volta ho inventato qualche cosina insomma interessante ho fatto delle esperienze interessanti sono stato in giappone ho fatto un lavoro sull'organizzazione della scienza sull'organizzazione sulla serendipity processi decisionali e sense making in uno dei più grandi istituti di ricerca del mondo e ripen sono stato lì un mese è un poco sono come dire auto moto ho avuto il piacere di conversare con il capo il presidente di un istituto di ricerca dove c'erano 6.000 tra i ricercatori e scienziati di oggi noi ori che era stato il premio nobel per la chimica nel 2001 cioè come dire i vagabondi di secondigliano i vecchi vagabondi di secondigliano come me arrivati a 65 anni nella loro vita ci hanno tante cose tante cose diverse però una cosa che fa la differenza voglio dire persino rispetto ai miei figli perché sia chiaro che il mio discorso non mira a dire c'è voglio dire su stupidaggini su brava questo sono sciocchezze cioè io sto parlando di un fatto di tipo sociale per questo si tirando in mezzo i miei figli per far capire che parlo rispetto persino ai miei figli che sicuramente sono più intelligenti di me sono più bravi di me su più tante cose di me però il fatto che loro certe cose non le hanno vissute in prima persona su certi fatti fa la differenza cioè questo è uno dei problemi tra virgolette una delle uno dei temi ecco non dei problemi uno dei temi della società attuale il fatto di dare per scontate le cose io il viaggio io l'ho conosciuto quando lavoravo prima di lavorare di guadagnare dei soldi io non ho viaggiato mai ma mai perché io a mio padre oltre a mantenermi all'università non gli potevo chiedere pure di mantenere di pagarmi il viaggio i figli nostri per fortuna compresi i figli miei ripeto possono fare tante cose eh il punto è non abituarli a pensare che quella cosa li è scontato cioè tu non hai lavorato tu per fare il viaggio però ho lavorato io ma qualcuno che ha lavorato e qui c'è un altro tema importante della famiglia e del lavoro proprio perché tu organizzi diciamo stai dentro all'impresa in primo luogo familiare un altro caposaldo della famiglia e del lavoro è che per fare le cose ci vuole sempre qualcuno che lavora non c'è niente a fare perché se non c'è qualcuno che lavora le cose non si possono fare cioè i biscotti cioè io l'avrò conosciuti che tenevo dieci anni cioè non è che sono nato con i biscotti e naturalmente queste piccole cose questo tipo di famiglia se tu te lo coltivi questo questo diventa un'opportunità come diceva Sun Sun un'opportunità quando la cogli si moltiplica e così tu puoi rimanere naturalmente sono una persona molto fortunata eh tutto quello che vogliamo però eh la fame la fame avere fame non la fame fisica avere fame avere voglia di arrivare avere voglia di spingere avere voglia di non fermarsi avere voglia di conoscersi cioè voglio dire insomma io per il mio lavoro principale sto in pensione poi come dire faccio delle cose con l'università faccio centomila cose però eh il computer eh stamattina mi ha detto che la settimana scorsa sono stato davanti a questo schermo in media undici ore e ventitré minuti al giorno a 65 anni ma scusami mi pare di capire che girando il mondo arrivando in Giappone occupandosi di ricerca tecnologica alla fine c'è un fil rouge che si chiama lavoro ben fatto comunque non è legato solo al lavoro manuale assolutamente un po' come è nata questa voglia di coltivare l'idea del del lavoro ben fatto partendo dall'esperienza con tuo padre l'inizio inizio eh diciamo è quello lì che ti ho detto la cosa inizia con con un padre mio padre che mi dice mi fa questa differenza tra il lavoro che ti faccio il lavoro a meglio a meglio poi tu leggi Pavese la luna e falò io poi l'ho riletto l'anno scorso ed è stata una meraviglia perché a leggere a 15 16 anni è una cosa diversa che a leggere a 64 65 anni e e a un certo punto c'è una frase di 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 anguilla che eh che dice l'ignorante non è eh le persone eh l'ignorante non dipende dal lavoro che fai ma da come lo fai ed è bellissimo perché mio padre non spiaccicava una parola di italiano quindi tecnicamente eh ignorante al massimo livello mio padre però era uno che passava dopo prima di durare la rete nella sua versione muratore perché anche quando è diventato per elettrico nell'enel che si poteva riposare lui per mandarci a scuola eravamo in quattro il sabato e la domenica la sera quando smetteva lì andava a lavorare a casa dei suoi capi e una volta io c'ho una mano come dire che non c'ha un gallo che si vede che il lavoro materiale in vita mia non ne ho mai fatto mio padre c'aveva una mano che era diciamo come spessore era quasi il doppio della mia e dopo che ha passato la camicia di stucco sulla parete lo vedo che passa la mano vicina alla parete e come dire come per sentirla e allora oso dirgli nel frattempo c'ho già diciassette diciott'anni che cosa eh voglio dire anche lì mio padre non è un esempio particolarissimo una persona piena di difetti come a me io peggio di lui una persona con tanti limiti con tanti difetti ce ne ce n'erano e ce ne sono tanti tu hai ricordato il blog che c'ho su sole 24 ore c'è io ho raccontato centinaia di storia bellissime di persone che fanno delle cose incredibili semplicemente facendo quello che che vogliono fare quello che devono fare quello che hanno deciso di fare perché poi anche qui nel lavoro così ci introduciamo anche in una delle cose organizzative che poi magari incontriamo da qui a poco più avanti perché vedi le cose pure quelle lì più complesse soppure semplici allora fai che io faccio un lavoro brutto dice vabbè ma se io faccio vincenzo due è facile perché tu fai il lavoro che ti piace a parte che è bellissimo che adoro il lavoro che faccio adoro stare qui con voi a parlare tutto tutto è tutto vero però comunque è faticoso ci devo pensare sulle nove di sera potrei fare un'altra cosa sto qui a parlare di queste cose cioè mi sono svegliata alle cinque stamattina non voglio fare però diciamo il discorso funziona così innanzitutto ci sta diciamo come dire ci sta un impegno però facciamo anche che io che una persona fa un lavoro che non che non gli piace alla fine poi magari ci torniamo su questo punto che questo è uno dei punti di snodo del lavoro ben fatto se tu non c'hai la possibilità di cambiare lavoro o se non c'hai la possibilità di non lavorare l'unica scelta vincente e fare bene il lavoro che devi fare guarda luca io all'inizio sembrava un matto con questa cosa poi nel 1989 si incontrano a torino primo levi e filippo rot ripeto anche per ci si ascolta ci ascolta primo levi e filippo rot adesso sta in nell'ultimo libro diciamo pubblicato di rotto questa conversazione ma all'inizio viene pubblicata sulla stampa sulla stampa di torino a un certo punto levi racconta a rotto che lorenzo il muratore che gli ha salvato la vita nel campo di concentramento di auschwitz naturalmente stavano in campo di concentramento odiava i tedeschi odiava la lingua tedesca odiava la cultura tedesca odiava qualunque cosa sapeva di tedesco ripeto per un fatto normale in quel contesto però se il tedesco gli chiedeva di fare un muro lui dice levi lo tirava su bello alto e forte ma filippo rot non so se mi spiega no vincenzo moretti filippo rot dice a levi gli chiede dici scusa ma com'è possibile quelle stava in una situazione schiavitù cioè com'è che succede questa cosa e levi gli dice perché fare bene il suo lavoro era l'ultimo baluardo per dimostrare la sua umanità che nonostante stava in una situazione di tipo schiavistica in condizione di assenza totale di diritti umani ok lui fare bene il suo lavoro perché lui non poteva fare diversamente poi naturalmente appena hanno potuto scappare sono scappate cioè sia chiaro appena ci si può ribellare che ci si ribelli anche adesso cioè perché il lavoro ben fatto il lavoro ben fatto anche dal punto di vista dell'impresa del riconoscimento dei diritti poi ci arriviamo del riconoscimento diciamo dei contratti di lavoro delle condizioni di lavoro ci vuole un insieme perché altrimenti non è credibile però quello che voglio dire io è che è assolutamente irrazionale pensare che la risposta all'insoddisfazione del lavoro perché non mi piace è fare male il mio lavoro perché non è una risposta ed è molto interessante anche pensare che facendolo bene poi ti comincia anche piacere cioè c'è il piacere intrinseco nel bene assolutamente ma soprattutto tu trovi tu trovi senso cioè facendolo bene tu trovi senso guarda io faccio spesso non so se con te ne abbiamo già parlato perché a me piace molto spesso fare questo esempio fai conto che uno di noi a casa si mette di cucinare una cosa che gli piace ma perdonatemi io faccio un esempio campano insomma della mia terra ma insomma per qualunque piatto però facciamo che io voglio fare il pasta e fagioli comunque ci vuole la pasta e fagioli l'olio all'acqua il gas le spezie il tempo per farlo i piatti i bicchieri il tempo e sapone per lavare i piatti i bicchieri e le ventole che cos'è ci vogliono comunque 20 minuti mezz'ora per far sta pasta e fagioli se hai messo i fagioli prima a mollo insomma ce l'hai come li devi tenere detto tutto questo che cosa dà senso a tutto questo il fatto che quando li mangio dico come buona la mia pasta e fagioli è l'unica cosa che ci sta senza che gli dà senso perché se è una schifezza io ho buttato la pasta i fagioli l'olio l'acqua il tempo il sapone l'acqua per fare la pasta l'acqua per lavare i piatti cioè io ho buttato tutto l'unica scelta vincente e fare la migliore pasta e fagioli che io sono in grado di fare in quel momento cioè non si può fare ci vuole sempre mezz'ora per farla pure per farla una fetenzia ci vuole sempre mezz'ora ma perché farla male se tu quella mezz'ora la puoi fare bene non dà senso a parità di consumo di ingredienti a parità di consumo di ingredienti di energia di tempo di tutto ma tornando a noi quando è che cominci a dar corpo a quest'idea del movimento del lavoro ben fatto senti il movimento detto così diciamo non è che mi ricordo insomma perché ripeto l'hashtag come diciamo oggi che accompagna la mia vita ma diciamo così piglia forma in maniera più compiuta 12 13 anni fa insomma 15 anni fa che cominciamo a lavorare in vari modi intorno e questo ti ha portato appunto a creare proprio tutto una serie di attività quando tu dici è un movimento perché non è un libro non è un blog ma c'è tutto un contesto del blog ti ho detto su sole 24 ore che si chiama lavoro ben fatto guarda i miei colleghi sociologi dicono che dicono giustamente insomma studiano e dicono che abbiamo non so mi sembra sette secondi di di attenzione meno del pesciolino rosso famoso famiccerato secondo i punti di vista questo però è diciamo il sito di tutte le attività non quello del sole 24 ore però il sito di riferimento si trovano tutti i riferimenti di e per assolutamente quello quello che 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 voglio dire è che nonostante le mie storie ci vogliono 20 minuti a volte anche mezz'ora per leggerle e comunque un blog che dal 2000 da maggio 2014 ad oggi c'è più di 700 mila storie lette e quasi 430 mila lettori unici c'è un successo incredibile per una cosa che tu ci metti 20 minuti cioè 700 mila persone che hanno impiegato 20 minuti per leggere una storia a me sembra un influencer dei più dei più dei più no 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 lascia stare gli influencer quello che voglio voglio dire io preferisco dire che viene riconosciuto un valore in un fatto che ha un senso e che vuole dire una cosa perché poi viene riconosciuto insomma è una è una è un'istanza un'istanza che è di molti non è solo tua non è una cosa che incontrate era vito cioè tu la leggi solo se già tu sei così e la cosa bella è che noi scopriamo in questo modo che siamo in tanti perché veramente c'è siamo in tanti il punto uno io poi ci ho scritto l'anno scorso questo libro lo faccio vedere bene fallo vedere bene perché io ho qua un altro tuo libro ma giustamente dici meglio che vedano questo perché questo è il libro di una vita l'ho scritto insieme a mio figlio anche qui perché è il libro della mia vita però anche qui ci è piaciuto molto questo legame mio figlio non è la prima volta che lavora lui c'ha il lavoro suo fa il libraio scrive libri anche per i fatti suoi però ogni tanto per esempio lui è venuto con me in giappone diciamo per quella fase adesso c'ho un cattivo inglese allora era pessimo e fare quelle cose con i giapponesi americani in una cosa di quel tipo senza il suo aiuto sarebbe stato impossibile poi siamo tornati da lì e abbiamo scritto un libro insomma eccetera eccetera però la cosa che ci piaceva e questo legame anche qui della ecco una delle cose che mi era piaciuto mi sembra che me l'aveva detto il responsabile della tecnologia della comunità europea dell'ambasciata italiana adesso non ricordo più mi aveva detto che in giappone un imprenditore quando mette su un'azienda non è che la mette per come obiettivo per stare tre anni cinque anni dieci anni la mette che deve durare duecento anni cioè la cosa sua è che tra duecento anni quell'azienda deve portare il suo nome e questa cosa qui a me ha colpito tanto insomma mi ha preso e in questo ragionamento mi è piaciuto il fatto delle tre generazioni mio padre io uno dei miei due figli che in qualche modo diciamo dentro a questo ragionamento del lavoro ben fatto trovassero il modo anche di una senso civile civico della propria esistenza perché poi come dire alla fine questo come sai con i libri non si diventa da ricchi cioè queste cose qui non sono cose per diventare per diventare ricchi però sono cose per diciamo come dire per portare avanti una possibilità un discorso come ho scritto nella mia bio dopo tanti anni questo lavoro ben fatto è diventato un format è diventato un percorso organizzativo per le aziende è diventato un libro è diventato un blog è diventato un mare di cose che sono diciamo adesso si chiamano ecosistema è un piccolo piccolissimo microscopico ecosistema che però di in assieme c'è questa cosa che facciamo ogni anno il 30 aprile la notte del lavoro narrato è l'ottavo anno anche quello una formula incredibile cioè io come dire ho avuto l'idea poi ognuno se l'organizza come vuole lui e si passa quella serata la sera prima del primo maggio la festa del lavoro a raccontare storie di lavoro ed è diventato una cosa dove ogni anno partecipano migliaia e migliaia di narratori che che raccontano che raccontano il diciamo il lavoro rovelli che è un fisico per fortuna e non un sociologo che se cose quando le diciamo noi sociologi sembriamo dei matti però carlo rovelli che invece è un fisico in suo uno dei suoi meravigliosi libri l'ordine del tempo a un certo punto scrivere siamo ciò che raccontiamo l'importanza del racconto l'importanza di raccontarci l'importanza della dell'impresa familiare del veneto del nord del centro del sud di raccontarsi di raccontare quello che è non solo di fare ma di raccontarlo perché in questo racconto non ci sta solo esempio ci stanno pure difficoltà ci stanno limiti ci stanno fallimenti ma ma sai quante volte ho dato testate nel muro ma un'unfinità di volte ma non fa niente cioè fa parte delle cose diciamo che ci troviamo ad affrontare però la mia testata nel muro può aiutare te a non pigliare la la stessa testata ad evitare quella e magari te ne prendi un'altra tua che poi servirà a un'altra persona per fare un'altra cosa questo è senza anche di creare uno dei capitoli del libro si chiama la block chain del lavoro ben fatto che un mio sogno guarda se ci pensi i cattivi in tutta la storia dell'umanità fanno in fretta a unirsi vedi le mafie che diciamo sono un tema che per noi ci scotta molto molto la pelle per la verità anche al nord però diciamo io io voglio parlare del mio ok mi brucia molto sulla pelle ok le mafie quelli si ammazzano cioè non è che vanno d'accordo si ammazzano tra di loro però fino a un certo livello poi c'è un livello in cui si riuniscono e stabiliscono il nuovo ordine e non a caso quel livello lì lo chiamano un sistema il sistema perché quello è l'approccio sistemico cioè sì tu ti puoi ammazzare per controllare un territorio per controllare un nuovo tipo di mercato della droga eccetera eccetera però oltre un certo livello ti devi fermare la cosa più importante di tutte è il mantenimento del sistema noi buoni non siamo così noi abbiamo talento tanto qualche volta abbiamo organizzazione ma non facciamo mai sistema mai perché ci sta sempre quello lì che è più bravo di quell'altro più bravo che è più bianco che neanche con il candeggio si può quindi tu dici tanto pratica a fare cooperazione esatto su questo portandolo a un livello più operativo tu dicevi prima che ha anche un approccio organizzativo e Maria Chiara che ci sta leggendo fa i complimenti a te ma chiede proprio anche come fare in qualche modo a veicolare con un imprenditore questo tuo concetto di lavoro ben fatto con i suoi collaboratori quindi qua credo tu possa raccontarci anche delle esperienze concrete che di cui mi parlavi prima sì 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 allora facciamo così io vi vi racconto di airpol che è una piccola azienda diciamo di 50 dipendenti una cinquantina di dipendenti ma precisamente diciamo come dire non non lo so del del casertano un'impresa diciamo che viene da un settore tradizionale ma che però sta facendo molta molta innovazione fino al design fino a prodotti ecologici in un settore quello delle plastiche diciamo oppure dei polimeri per dire più correttamente dove ci stanno tante cose cose da fare ok lì l'imprenditore è un mio amico e a un certo punto insomma ha letto il libro affascinato di queste cose come insomma dice ma come si fa dice guarda io vorrei fare qualcosa che riguarda per fare entrare questi concetti voglio precisare che una cosa che è importante a parte che come non ci stanno proprio le possibilità di muoverci ma comunque in ogni caso diciamo non so come dire chiediamo il discorso per quello che è come un caso di studio di una cosa che io ho fatto cioè non non desidero proporre niente no ma tranquillissimo però mi piaceva molto come come esempio quindi allora io che cosa ho fatto io gli ho detto vada fai una cosa tu a ogni dipendente organizziamo un percorso su tre giornate di formazione per queste persone però prima che io vengo in azienda tu compri una copia del libro e la regali stavamo nella prossimità del natale tutte queste cose io dopo vi lascio un link lascio a luca il link della pagina perché questa storia è raccontata con tutto il percorso anche con le cose che hanno fatti i lavoratori ci sta tutto su nuova e il sole 24 ore quindi voi la potete andare a vedere e la potete studiare un caso di studio che io diciamo ho chiesto proprio al mio amico in imprenditore riccardo van deneden van deneden che di diciamo di di utilizzarlo in questo modo proprio per metterlo a disposizione di altre possibilità di altri studiosi di altri formatori di di altri esempi ho detto tu stavamo nelle vicinanze di natale lui dice una bella idea lo facciamo per natale ci parlando ci siamo detti non distribuiamo questo libro come dissimo una cosa il giorno in cui lo dovete distribuire alle persone facciamo un collegamento e io per un'oretta spiego perché ho scritto questo libro da dove vengo c'è praticamente un po' una cosa come la stiamo facendo io e te stasera ok e perché ha senso questa roba qui dopodiché loro leggono il libro e io diciamo poi dopo vengo con in in azienda e lavoriamo e abbiamo fatto così cioè il mio amico si è fidato abbiamo fatto in questo in questo modo quando sono andati in azienda ma non tutti quanti l'avevano letto non tutti quanti l'avevano letto tutto però si era creata una situazione per cui tra di loro cominciavano a parlare del lavoro ben fatto che cos'è il lavoro ben fatto che significa come funzioni io non so se c'è qualcuno di loro che è riuscito perché qualcuno la qualcuna speranza altri insomma li avevo li avevo invitati insomma perché stanno lì sono sono persone vele quando siamo arrivati noi sostanzialmente come potete leggere nella storia lì nel nel resoconto giornata per giornata abbiamo prima riragionato insieme su tutti i principi come si fa in queste attività in maniera molto interattiva e creativa insomma ma questo è normale è scontato e che cosa significa questa roba qui e poi li abbiamo fatti cominciare a a far confrontare con le soluzioni io nei miei 12 anni 11 anni 12 anni di di insegnamento di sociologia dell'organizzazione all'università di salerno con gli studenti ho avuto sempre molta empatia e spesso gli studenti venivano per me anche da me anche per problemi esistenziali non solo durante l'ora di ricevimento insomma per qualunque problema volevano parlare certe volte bussavano alla porta prof posso quando posso venire c'è un problema ne vorrei parlare con lei mi guarda tu puoi venire con il problema perché io sono disponibile però insieme al problema devi portare anche una soluzione poi un'altra soluzione ce la metto io poi discutiamo tutti e due del problema e delle nostre due soluzioni e poi dassi che troviamo una soluzione se tu vieni qua solo col problema fammi il favore non venire stata a casa statene a casa perché se io ti racconto i problemi miei io ti faccio piangere cioè io non sto qui per sentire i problemi tuoi io sto qui insieme a te per cercare soluzioni questo passaggio dal problema alla soluzione è decisivo anche in ambito organizzative la stessa cosa abbiamo fatto pure in azienda ok c'è suo problema perfetto prima loro hanno discusso dei problemi ma poi hanno discusso di soluzione e di quali erano le soluzioni e si sono confrontati alla presenza dell'imprenditore che è stato lì due giorni senza la terza giornata ancora dobbiamo fare senza diciamo come dire dire una parola però ad ascoltare a sentire è una parte di queste cose lo trovate pubblicato c'è una lettera di riccardo a me che ho pubblicato in cui lui dice dopo le discussioni che abbiamo fatto le cose che ha messo in atto perché naturalmente anche questo è un aspetto perché se tu chiedi a una persona uno sforzo per trovare una soluzione su quella cosa e poi quella soluzione la ritieni valida tu quella cosa la devi fare perché altrimenti non tiene senso cioè diventa un gioco stiamo perdendo tempo e diventa come la pasta e fagioli fatta male cioè non funziona ma se tu decidi che la vuoi far funzionare il lavoro è ben fatto funziona veramente perché veramente lo capiscono tutti e veramente capiscono tutti che conviene naturalmente con gradualità con dei tempi come diceva totò che magari non l'amate come lo amo io però diciamo che era uno straordinario comico cioè non sono fiaschi che si abbuffano cioè non sono cose che accadono dal giorno a domani però come diceva shane cambiano la cultura organizzativa assolutamente e se io voglio capire come funziona un'organizzazione devo capire qual è la sua cultura anche qui vale per la famiglia vale per l'impresa la cultura organizzativa di un'impresa è decisiva allora se noi siamo tutti orientati a trovare soluzioni e a non essere sommersi di problemi naturalmente le soluzioni che si possono trovare perché vale il discorso che ci siamo fatti prima luca e persone che ci state ascoltando e diciamo è con mia grande gratitudine c'è vale lo stesso discorso di prima cioè se è un problema allora un problema è un problema se tiene una soluzione se non deve una soluzione in un guaio è una calamità e nuca da gris ma non è un problema c'è un problema tiene una soluzione non viene una soluzione proprio dal punto di vista dell'essito non è un problema i problemi ci hanno soluzioni sulla vostra vera parziale mi stai facendo pensare che in qualche modo e esposo tantissimo la tua idea non c'è da costruire chissà quale sovrastruttura chissà quale teoria è molto più semplice molto più buon senso di quello che possa immaginare quello di far dialogare le persone intorno a quelli che loro vedono come problemi e possibili soluzioni esatto ma è un abitudine tu lo vogliamo far vedere un attimo quel video di qualsi due minuti assolutamente volevo chiederti e lo facciamo molto volentieri e quindi aspetta un anno da meno di due minuti e non solo ma rispondeva a qualche domanda che stavo facendoti cioè lavoro fatto bene per chi da quale punto di vista mi suggerivi di lanciarlo e lo lanciamo insieme guarda e dopo lo commentiamo vincenzo ma che cos'è lavoro ben fatto il lavoro ben fatto e quando ti alzi la mattina e fai bene quello che devi fare qualunque cosa ti dico a fare ma come si fa ci sia abito è come all'interno e allacciare le scalpe e a controllare la propria città una volta che hai imparato a farlo in modo giusto lo smettiamo ma perché fanno perché ha senso è bello è giusto e sovrappunto convive chi lo può fare te lo possono fare in qualunque poteste e a qualunque tanto ma cosa succede eccoci qua quindi lavoro ben fatto che cos'è allora alla fine sì 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 il lavoro guarda io io partirei da qui io partirei dal fatto che quello che è detto nel video è tutto vero cioè è vero che che conviene per i motivi che abbiamo accennato è vero che è bello che è giusto poi proviamo a immaginare un attimo diciamo come come perché altrimenti sembra una fantasia ma invece è una cosa straordinariamente reale proviamo a immaginare quando ci fa male un ginocchio non pensiamo a cose gravi e dobbiamo andare da un ortopedico quando come dire è giusto che l'ortopedico ci 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 guarisca bene il ginocchio ci risolva il problema che noi che noi abbiamo al ginocchio è un nostro diritto cioè se andiamo all'ospedale è un nostro diritto essere curati però provate a immaginare la differenza che fa quando troviamo il bravo medico e il medico meno bravo non diciamo cattivo di questi tempi quando troviamo il bravo infermiere e l'infermiere meno bravo e il bravo calzolaio è calzolaio meno bravo allora anche qui sembra una banalità ma non è banale è semplice ma non è banale perché il lavoro ben fatto degli altri è un mio diritto il lavoro ben fatto mio è un mio dovere perché io non posso chiedere che il postino faccia bene il suo lavoro il medico il vigile urbano il mio dipendente il mio datore di lavoro il mio collega e poi io non faccio bene il mio lavoro e perché perché e quando la bambina mi chiede e dice vincenzo che cosa succede funziona tutto meglio anche qui allargama allarghiamo un attimo il pensiero pensiamoci assieme guardate che se in una qualunque città il vigile fa bene il vigile il medico fa bene il medico il calzolai fa bene il calzolai l'ingegnere l'architetto funziona tutto non ci vuole nessun'altra condizione se ognuno fa bene quello che deve fare funziona tutto ora perdonami ti interrompo e magari rompo un po l'entusiasmo che ci stai mettendo ma vorrebbe vorrei problematizzare un attimo perché la questione è chi è che decide se un lavoro è fatto bene soprattutto nel momento in cui oggi non so se qualcuno ti ha già fatto qualche obiezione su questo fronte ma molti di noi si sentono parte di un sistema produttivo lavorativo molto più grande di loro per cui il lavoro mal fatto è un lavoro del sistema è la cattiva organizzazione o è la cattiva tecnica cioè da quel punto di vista non c'è a volte il rischio che qualcuno ti dica ma vincenzo io cerco di fare il mio lavoro ma il sistema attorno a me non funziona il problema è più è più grande di me ascolta io adesso come dire avremmo bisogno di più tempo di quello che abbiamo però eh cerco di andarci diretto diretto ok allora jeremy rifkin eh diciamo il futurolo così esatto e oltre a essere futurolo per fare un esempio lui è consulente della merkel è stato consulente della zapatero di zapatero della merkel è stato consulente di alemanno quando era sindaco di roma cioè è un uomo che a livello mondiale vale tantissimo e costa tantissimo quanto vale diciamo così lui dice che questo mondo che fa le cose male ha trent'anni di futuro allora io chiedo ripeto io non ti sto facendo il discorso dell'ecologista di quello di dei dei pesci di quello che amo le farfalle tieni presente che a me mi piacciono sia i pesci che le farfalle però non voglio fare questo ragionamento qui perché non voglio sembrare un sognatore io non sono un sognatore io sono uno che ogni giorno cerca di cambiare delle cose ok? perché però jeremy rifkin non è un sognatore e dice che ci stanno trenta ma io voglio dire che è pessimista facciamo che ce ne stanno pure cinquanta e facciamo che ce ne stanno pure settanta è una prospettiva credibile per un'intelligenza come l'intelligenza umana per una razza come la razza umana che è l'unica razza che conosco fino adesso avere cinquant'anni avere cinquant'anni avere trent'anni cinquant'anni settant'anni di futuro il futuro del mondo Luca sta nel lavoro ben fatto non sta nella quantità sta nella qualità la quantità ci porta gli sprechi che non possiamo reggere più sta di nuovo piena vedevo oggi di un fumo che non sanno neanche loro che fumo è e di cioè quando siamo andati nella prima fase del covid in India hanno visto l'Himalaya a centinaia di chitri che erano secoli che non lo vedevano più quella roba lì non è più possibile perché noi lo consideriamo un lusso perché noi pensiamo come dire che ma non funziona così non funziona così ti ripeto anche sul piccolo imprenditore fai conto che io faccio perché insomma io ho fatto tanti lavori nella mia vita tutti che mi hanno molto appassionati ma anche molto diversi tra di loro aziende piccole medie grandi e grandissime di cui da vari versanti ho seguito l'organizzazione del lavoro le possibilità di sviluppo quelle lì che hanno avuto più futuro sono state sempre sempre quelle lì che hanno innovato e hanno pensato possibilità diverse in quella fase tutti quelli che cercavano di competere sul basso costo e sul prodotto scadente sono morti o per i cinesi o per gli indiani o per i pakistani o per la Serbia o per i paesi dell'est non se ne è salvato uno ma io non è che ti parlo di uno due o tre cioè da un versante diverso di organizzazioni sociali io ne seguivo centinaia di queste situazioni ed era tutto così oggi ci vuole un cambio di paradigma dopodiché partiamo sempre dalle condizioni date ok in airpol si parla pure di tettoia cioè non è che parla di una bomba atomica cioè si parla pure della tettoia però la tettoia può essere una cosa che in un certo frangente può fare la differenza come no ok si si parla di cose che sono possibili in un dato momento si parla di 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 come dire di avere l'attrezzo al posto giusto nel momento in cui serve ora se tu discuti con chiarezza con le persone che lavorano non c'è nessuno di quello che lavora che può dire che se non trova l'attrezzo al posto giusto quando serve è perché come dire c'è la colpa sua ma non lo mette dove lo deve mettere quell'attrezzo allora tu devi discutere concretamente perdonami l'esempio molto semplice ma io ti ti voglio dare l'idea che io parlo di cose molto concrete non di fumo di cioè si deve trovare un modo di capire prima ti devi chiedere perché queste attrezzo non stanno dove stanno dove devono stare quando ti servono e poi che cosa devi fare perché questa cosa qui accada e si può fare e tu ti trovi di fronte a un altro problema che risolvi e mentre invece di andare in giro a cercare l'attrezzo quei tre minuti li puoi spendere per fare una cosa persino per pensare alle vacanze che potrai fare quando finalmente potrai viaggiare un'altra volta perché è meglio perché funziona di più non so se stai leggendo anche i commenti ce ne sono diversi no io da qui non li leggo ok te li traduco un pochettino io Giancarlo l'amico Giancarlo chiede se in qualche modo c'è una connessione tra il concetto di lavoro ben fatto e sostenibilità in qualche modo sono sinonimi come no Luisa dice quanto è importante nobilitare il lavoro di tutti nostro e altrui esatto il tema delicato sicuramente è quello di trovare un equilibrio c'è Giulio che dice da un lato abbiamo la qualità assoluta dall'altro abbiamo il contenimento dei costi dall'altro abbiamo la velocità in qualche modo ci sono delle tensioni intorno al concetto di fare bene le cose che vanno trovate per cui va trovato un equilibrio un po' e questo assolutamente sì Luca io ti seguo però l'equilibrio va trovato dall'analisi allora come ti devo dire se fai conto che se io a vent'anni corrivo i cento metri in un minuto ok diciamo per dire e adesso ci metto dieci minuti ok è evidente che io devo trovare un equilibrio perché magari eh il mio allenatore mi deve presentare a a alla gara e non ci posso mettere dieci minuti però se partiamo dal fatto che io dai sessantacinque sto andando verso i sessantasei io a nove minuti eppure a otto ci posso arrivare ok a un minuto non ci posso arrivare ok dopodiché dobbiamo decidere se io il tempo mio lo devo spendere per cercare di arrivare a sette minuti e mezza scusami no e magari e ma e magari non non ci arrivo mai oppure possibilmente posso fare una cosa diversa posso dare un contributo diverso posso avere un ruolo diverso oppure posso andare in pensione a un'età diversa da questa età assurda in cui oggi posso andare in pensione e e ci sta un'unità di intenti nel capire che le persone non che non debbano lavorare per esempio mio padre quando non ha lavorato più lui ha vissuto a un certo punto lui è andato in pensione si è entristito e non se l'ha goduta neanche e non che le persone in assoluto non debbano lavorare però non debbano lavorare come lavoravano prima di andare in pensione tu devi partire dal caso specifico però se tu lo stringi lo stringi lo stringi il caso specifico ritorni sempre a quelle due o tre variabili hai la possibilità di farlo diversamente hai possibilità di non farlo se non lo puoi fare diversamente o non puoi farlo lo devi fare bene che non c'è non c'è alternativa detto così sposa molto il commento di speranza che dice di fondo che non non c'è una valutazione esterna se stai facendo bene o male c'è un bene assoluto tra virgolette lo sai tu quando stai facendo bene c'è un concetto di dedizione c'è un concetto di in qualche modo non so se torna con te l'idea che è un riferimento quasi categorico direbbe qualcuno ecco ti torna un po che sia così cioè l'esperanza innanzitutto per chi si ascolta è una delle persone che sta facendo che lavorano in airpol e sta facendo questa attività di formazione ok saluto tanto e sono contento perché insomma lavorano a giornate intere figli casa insomma il fatto che sta qui e per dirti il il coinvolgimento che lei ci sta mettendo non è un capo non è insomma una lavoratrice che fa molto bene il suo lavoro però insomma è una lavoratrice dell'azienda in alcuni casi ci sta anche chi te lo ci te lo dice cioè abbiamo dei sistemi di qualità abbiamo il fatto che dobbiamo ridurre nel caso per esempio della sua azienda bisogna ridurre la quantità di materiale che non può essere riciclato ci stanno degli indicatori oggettivi che determinano anche se ti dice bene perché tu hai rispetto a quelle cose lì che poi cerchi anche di migliorare gli indicatori di performance cerchi di migliorare eh diciamo il punto è la strada con la quale tu migliori tante cose si possono migliorare stando più attenti tu devi dare però un senso al fatto che le persone siano più attente io che lavoro nella tua azienda l'azienda è tua non è mia ci deve essere una ragione per cui io devo stare attento perché magari un giorno c'ho il figlio malato ho litigato con mia moglie mia mamma non sta bene cioè io devo avere una ragione naturalmente questa ragione non è soltanto economica guarda ma queste cose qui non le ho inventate io eh cioè queste cose qui sono nate eh diciamo come dire cento anni fa la dicotomia eh la dicotomia incentivi e contributi l'equilibrio tra incentivi e contributi dove l'incentivo è quello che l'azienda il datore di lavoro dal lavoratore e il contributo è quello che il lavoratore dalla sua azienda al suo datore di lavoro cioè non sono cose che invento io le motivazioni la la scala dei valori in cui il fatto economico spesso nelle migliori aziende americane i benefit più ricercati non sono quelli là che già sono pagati bene perfetto ma non è sempre solo una questione di carattere economico e anche il fatto che per esempio se tu mi se io io sono stato rimandato in terza e quarta superiore eh teoricamente sarei un perito elettronico non so neanche avvitare una lampadina e sono stato eh eh rimandato nelle materie più importanti elettrotecnica e matematica elettronica e matematica perché io praticamente quella scuola lì non la capiva proprio avrei dovuto fare il liceo mio padre aveva una era fissato su una cosa che io devo andare dovevo fare il concorso all'Enel dovevo vincere e dovevo andare a lavorare come tecnico all'Enel perché se io andavo a lavorare all'Enel come tecnico mi avrebbero chiamato signor Moretti mentre a lui lo chiamavano Don Pasquale lui non riusciva a passare sopra al fatto che lui lui lavorava a novemila a sedicimila volt cioè una cabina di elettricità la governava come diciamo come come pochi ok e arrivava il giovane tecnico di venti ventun anni che non sapeva fare nulla e quello lì era il suo capo lui lo doveva chiamare signor Marco Lin e eh eh il signor Marco Lin diceva vicino a lui Don Pasquale io ci ho passato stuai per fortuna ho finito sto diploma nel libro racconto la storia bellissima di quando lui mi ha chiesto di andare all'università pensando che io facessi ingegneria io gli ho detto tu sei matto io faccio il concorso nelle ferrovie e me ne vado a fare il fornire in ferroviere lui mi ha chiesto dice ma perché tu che vuoi fare perché lui ci tenesse ci teneva molto che io andassi all'università io dissi vorrei fare sociologia e lui mi disse che cos'è la sociologia io dissi papà sociologia no sociologia ho capito e che cos'è poi il resto diciamo come dire fammi fare così eh se ti va te lo leggi nel libro perché è lungo però io che cosa però io che cosa ti voglio dire io ti voglio dire io ti voglio dire che a mio padre sarebbe bastato che il suo capo gli riconoscesse le sue capacità professionali gli dicesse Don Pasquale voi che capite come si fa mi insegnate come si fa che non si rapportasse a lui come il capo perché si ero tecnica però non capiva niente perché era giovane perché non aveva esperienza perché era il secondo mese che vedeva stava su una cabina elettrica o su una sottostazione allora i motivi quando parliamo come dire di che cosa significa dare senso perché il lavoro conviene poi un altro aspetto della bambina della domanda della mia risposta è il fatto che quando ti abitui non smetti più luca se ci pensi te se sei abituato a fare il lavoro in un certo modo se lo devi fare male ti devi impegnare cioè ci devi pensare c'è nessuno di noi piglia la sciarpa la mattina se c'è freddo e se la mette sotto i piedi cioè ce la mettiamo al collo mentre parliamo mentre partecipiamo alla diretta senza pensarci ma non è una cosa naturale automatica è una cosa culturale cioè ci siamo abituati la prima volta che ci siamo allacciati le scarpe non ci quando avevamo due o tre anni per chi c'ha i figli cinque anni quattro anni c'era una cosa complicata una volta che hai imparato tu mentre fischi ti allacci le scarpe perché ti sei abituata pensare di scrivere una cosa e di scriverla male se tu devi scrivere i tuoi associati scriverla sgrammaticata ti devi impegnare c'è una volta che ti sei imparata a scriverla con la grammatica e le virgole i punti nel modo giusto tu anche se stai pensando altro magari qualche refuso lo correggi rileggendola però la scrivi bene se la vuoi scrivere tutta sgrammaticata ti devi impegnare è così su tutto una volta che tu ti sei abituato a farla bene una cosa per farla male ti devi impegnare perché altrimenti senza mensaggi la fai bene ma è così veramente non è uno scherzo e tra l'altro lavoro e qualunque lavoro che è così il falegname cosa vicino a una macchina è la stessa cosa c'è mio padre quando mi chiedeva un pezzo di ferro quando diciamo per nei suoi momenti lì ci passava la cosa sopra per farlo piano che manco mi ricordo come si chiama la pialla eccetera eccetera cioè quello veniva perfetto mio padre poteva cantare poteva guardare gli alberi poteva fare quello che voleva lui lui solo con la mano su quel pezzo di ferro quello veniva perfetto perché lui era abituato a farlo bene cioè se lo doveva fare storto mio padre metteva il pane vento senza con i fili di nylon messi a x e a croce quando aveva finito di metterli il pavimento mi chiamava e diceva vincere vieni qua metti la livella la la goccia dove sta papà al centro metti la 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 goccia dove sta papà al centro momento al centro del pavimento la goccia dove sta papà al centro chi sta in un pavimento mi sa regola d'arte il contatto l'aveva messa luca mi devi credere l'aveva messa oggi con fila c'è il filo si può muovere non è che camminava c'è quello andare avanti era veloce però quel lavoro suo lo sapeva fare e così è l'operatore vicino alla macchina e così è quello lì che sta alla spedizione e così è quello lì che sta nel magazzino e così quello che deve avere i rapporti con il cliente se quello lì che sa che deve scrivere la mail al cliente è uno che c'è il senso di quello che deve fare e impara a fare la mail può pensare a quello che vuole lui la fa giusta perché si deve impegnare per farla sbagliata pensateci cioè è così paradossalmente da una c'è maria che dice in qualche modo è un cambio di paradigma ci vuole il tempo per arrivare a questa nuova cultura del lavoro ma paradossalmente parlavano di regola d'arte di tuo padre ti rifai sempre una cultura del lavoro che invece forse abbiamo un po abbandonato perché abbiamo una tradizione italiana in particolare dell'artigianalità nella cura del dettaglio nel far bene le cose che a mio avviso appunto forse abbiamo perso negli ultimi decenni ma che era proprio nostra nella tradizione lì si apre anche un altro aspetto leggevo e mi piacerebbe andare verso la chiusura perché già è passata l'ora però è troppo bello ascoltarti bisogna fare un'altra puntata mi sa però mi fa pensare al lavoro ben fatto mi fa mi fa pensare all'idea di quegli scultori delle statue che stavano e addobbavano le chiese nel medioevo che si preoccupavano di curare la statua anche dietro dove in qualche modo non era vista da nessuno però il lavoro chiedeva che fosse finita anche dietro a volte ho l'impressione che volendo ottimizzare volendo cercare efficienze di tutti i tipi ci siamo preoccupati solo della parte estetica del lavoro ben fatto della parte esterna e vendibile perché non viene pagata tra virgolette dal mercato tu ci stai chiedendo di tornare alla regola d'arte stai chiedendo di stare su una dimensione quasi di un lavoro che è premiato in sé al di là del valore di mercato non so se sei d'accordo no no aspetta io adesso ti sorprendo e mi piace che finiamo così perché io ti sorprendo che hai detto una cosa stupenda io insisto che si può fare dappertutto si può fare in qualunque tipo di azienda familiare industriale agricola eccetera eccetera però ti faccio un esempio perché altrimenti le mie sembrano diciamo soltanto 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 giaccere scusa mi alzo perché vede che sto perdendo un po di connessione ecco qua allora ma non mi viene in mente il nome insomma l'autore della biografia di stevie jobs mi sembra jacobs ok grazie stevie jobs lo parlo lo porta alla alla cosa del al caso del padre adulto paul jobs e gli racconta che il padre gli aveva insegnato che la staccionata bisogna farla bene anche di dietro al lato in cui non si vedeva guarda che cosa meravigliosa neanche se ci fissimo fossimo messi d'accordo vi giuro chi ci ascolta che non ne abbiamo proprio parlato e in più gli aveva detto che anche la parte di dietro dell'armadio quella che va sul muro va fatta non solo bene ma deve essere bella ora più avanti nelle pagine l'autore racconta che stevie jobs era odiato da una parte dei suoi lavoratori perché li costringeva io che insomma uso i suoi computer da tanti anni me lo ricordo c'era proprio diciamo una come dire una narrazione su questo fatto non si possono aprire non si possono aggiustare e lui andava in giro a spiegare che ogni singola saldatura non doveva essere solo fatta bene ma doveva essere anche bella e gli ingegneri i tecnici gli dicevano ma scusa ma questa non la vedrà mai nessuno lui diceva non è importante deve essere bella e ben fatta io amo usare questo claim bellezza e lavoro ben fatto e l'italia va ora noi parliamo della apple quindi parliamo della tecnologia parliamo di grande dimensioni è una filosofia è un approccio è un modo di pensare e di fare le cose non è una poesia cioè è un fatto vero che si può fare sempre in qualunque situazione naturalmente partendo da quella situazione concreta ci vogliono dei professionisti seri che fanno un'analisi seria di quella situazione perché ripete non facciamo i maghi i maghi non esistono la risoluzione dei problemi da un giorno all'altro non esiste però esistono dei percorsi che permettono di raggiungere dei risultati e oggi questi percorsi come dire per me passano attraverso l'acquisizione della consapevolezza guarda un'altra cosa che io tra i grandi scienziati con i quali ho lavorato in giappone oltre a piero carnici che insomma è un italiano e cadesse anche il responsabile della genetica per l'istituto nuovo tecnopolo che sta a milano ma comunque sta ancora lì in giappone e diciamo è uno dei più grandi studiosi di dna e spero che un giorno lo venga lui il Nobel che mi ha promesso il mio amico piero che la prima intervista la fa la fa con me e la faccio io perché con lui abbiamo cominciato con questa roba della serendipiti e della scoperta per geni e per caso più di 15 anni fa ce n'era un altro che si chiama franco nori che è un dizio tanto per dire che lavora sull'intelligenza artificiale e che diciamo ha avuto tipo diverse copertine di science insomma uno scienziato enorme questo qui un giorno l'ho trovato con una parete intera piena di costi di segni matematici che per me erano i geroglifici che ha acceso come facciamo un po' tutti a volte una lambatina quei cosi che mirano e ha detto lì ci sta un errore c'erano con lui altri 30 40 tra ricercatori e scienziati allora quando poi ha finito io gli ho detto franco ma l'hai fatto questa cosa per me insomma un regalo che hai fatto a me dice no no ma quella è una cosa seria noi qui cioè se noi andiamo fuori e ci sta un difetto nel nostro lavoro e lo scoprono gli altri noi siamo finiti significa perdere finanziamenti qua parliamo di milioni di dollari parliamo di decine di milioni di dollari cioè sono cose molto serie e dopo di che ha cominciato a fare perché vedi vincenzo quattro oggi sono meglio di due otto oggi sono meglio di quattro sedici oggi sono 32 64 sono meglio di 32 l'ho fermato guarda questa cosa l'ho scritto nel rapporto che poi hanno tradotto in inglese in giapponese perché veramente è una cosa semplice e geniale straordinaria agito franca fermate ho capito dice no no ma vale sempre quanto più occhi ci stanno meglio è quello che noi dobbiamo fare dobbiamo rimettere gli occhi delle persone che lavorano sul loro lavoro amico mio luca ma fa fatica loro nel capito c'è i primi che devono controllare il loro lavoro non sono quelli là che li controllano sono loro e dobbiamo dare senso a questa cosa perché un lavoro è ben fatto quando è fatto con la testa quello che sappiamo con le mani quello che sappiamo fare e con il cuore la passione e l'impegno testa mani e cuore beh non si poteva un lavoro ben fatto non si può chiudere che meglio che così testa mani e cuore me la porterò con me credo avremo bisogno di parlarne ancora vincenzo perché è un tema centrale quello di pensare che a tutti i livelli qualunque sia il nostro ruolo qualunque sia il nostro coinvolgimento ci mettiamo testa mani e cuore vincenzo fa vedere ancora la copertina a chi non l'ha vista prima magari del tuo libro il lavoro ben fatto vincenzo moretti uno stile e uno stimolo a far per tutti noi il meglio che riusciamo in ogni momento credo sia questa la sfida che ci lanci vincenzo e noi cerchiamo di raccoglierla di essere stato con noi questa sera più che una sfida io sono davvero ti sono molto grato per l'invito e mi ha fatto assai piacere parlare con te con voi di queste cose basta grazie di cuore e alla prossima allora grazie ancora vincenzo ea grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo ci seguiranno la prossima ciao